Carissimi fratelli e sorelle, ancora una volta grazie ad Antenna 3 e Rete Veneta e Gente Veneta Facebook perché è possibile incontrarci in questa che abbiamo definito diaspora, digiuno eucaristico, liturgico. Si spera con prudenza ma anche con coraggio di poter iniziare una ripartenza anche liturgica e reale della vita delle nostre comunità. Come abbiamo appena ascoltato inizia oggi e continuerà domenica prossima la lettura del capitolo 14 del Vangelo di San Giovanni. Tanti temi. Sono tante le cose che Gesù vuol dire ai Suoi discepoli nelle ultime ore di vita. Gesù incomincia dicendo ai Suoi discepoli non abbiate paura. Un richiamo che per un verso afferma che la paura e il timore non debbono far vergognare il cristiano, appartengono alla vita del cristiano, come alla vita di ogni uomo. Questo stato dell'anima, le parole di Gesù sono non sia turbato il vostro cuore. Questo stato di paura, di angoscia Gesù ci dice che si può vincere da parte del cristiano con la fede. E allora vorrei prima soffermarmi su tre momenti in cui Gesù ribadisce questo tema, ma prima mi fermo sul non temere abbi fede che è la parola che l'angelo rivolge a Maria quando la chiama per quella missione inattesa, gravosa, che è la maternità divina. Gesù dirà anche in un momento drammatico della vita dei Suoi discepoli quando stanno attraversando il lago di Genezareth, solo chi conosce questo lago sa quante tempeste improvvise, violente anche per chi sa navigarlo come erano gli apostoli, pescatori provetti. La domanda di Gesù ai discepoli che gli dicono «Ma scusa, non ti interessa proprio che stiamo morendo? Stiamo affogando? Perché avete paura, gente di poca fede?» Un'altra versione del termine «non aver paura, abbi fede». Poi minacciò i venti e le onde e tutto si calmò. Anche qui Gesù nel Vangelo di oggi risuona la stessa parola «non abbiate paura». Quindi la parola «non aver paura» è una parola chiave, è una cifra del discepolo, del cristiano. E Gesù precisa «non abbiate paura, abbiate fede in Dio e anche in me». Io ringrazio il canto iniziale perché diceva «solo in te c'è fedeltà, Signore». Sì, la fede, proprio la fede è la questione seria del cristiano, La fede, prima di tutto, perché il cristianesimo, prima di essere una religione, è una fede. La fede è fidarsi, è affidarsi, è confidare in Dio. Ricordiamo la predicazione del profeta Geremia, al capitolo 17, «Beato l'uomo che confida nel Signore», poi dirà anche «maledetto l'uomo che confida negli uomini». La fede, allora, non è solo ripetere gli articoli del credo che pure sono veri e contengono i misteri della nostra salvezza, ma non basta recitarli, bisogna anche saper scommettere sulla fede del credo cristiano, sugli articoli di fede, scommettere la propria fede su se stessi, cioè su Gesù. La vita cristiana è tante cose, ossia si esprime e si manifesta in tante scelte, in tanti gesti, ma prima di tutto la vita del cristiano è una fede. Però Dio talvolta sembra essere assente nella nostra vita. Abbiamo appena citato l'esempio di Gesù che dorme mentre i discepoli combattono come possono, ce la mettono tutta contro le onde, contro il vento, a un certo punto stanno affogando. E Gesù è presente, ma dorme e tace. È qualcosa che dobbiamo meditare questa scena evangelica del capitolo ottavo di Matteo, perché accade prima o poi nella vita di ogni discepolo e discepola del Signore, accade prima o poi nella vita di ogni comunità cristiana. Stiamo vivendo un tempo in cui molti di noi si dicono Signore, ma taci, ma Signore, perché non ti fai presente? Appartiene a ogni discepolo, a ogni generazione cristiana, a ogni comunità, la prova della fede. La fede la si scopre, la si vive, la si comprende nel momento in cui ci mettiamo in gioco, nel momento in cui si rischia la propria vita. E di vita ce n'è una sola, eh? Quindi il rischio è grande. Si rischia la propria vita dicendo a Lui comunque il nostro sì. Pensiamo a quel padre che nel Vangelo di Marco chiede la guarigione di suo figlio tormentato da uno spirito impuro, immondo. E di fronte alla domanda di Gesù, ma tu credi? Risponde, credo. Ma aiuta la mia incredulità. Dovrebbe essere la nostra preghiera. Le sicurezze umane deludono. Perché? È semplice, perché nessun uomo può garantirmi in ciò che è veramente fondamentale per me e per la mia vita. Chi è che mi può garantire la vita? Chi è che mi può garantire la felicità? Chi è che mi può garantire il bene, la giustizia, la pace del cuore, l'accettazione dei miei limiti? Quante persone sono tristi, sconfortate perché non accettano i propri limiti? Covid-19 ci ha detto tutto questo. Non c'è intelligence né americana, né israeliana, né russa, né britannica, e potremmo passarle tutte. Non c'è sistema di sicurezza, welfare, che possa dire all'uomo tu sei sicuro. Le assenze di Dio nella vita dei discepoli sono momenti importanti, sono momenti preziosi, sono momenti di scuola, sono momenti di crescita in cui si entra nella vera fede. Il profeta Geremia, al capitolo 17, dicevo, esclama, benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. Bisogna imparare a fidarsi di Dio. Fede è dono ma insieme è anche libertà e rischio. Non fermiamoci solo ad una caratteristica della fede. Noi diciamo la fede è un dono, chi ha questo dono bene, chi non ha avuto è un problema di Dio. No, la fede oltre ad essere un dono che Dio fa a tutti, ti coinvolge come libera persona, come libertà che vuole rischiare, si fida. Quanti rischi nella nostra vita, nelle nostre scelte anche molto umane, quotidiane. Ma con Dio non ci si fida. Ci si fida di un agente di assicurazione, ci si fida di un commercialista, ci si fida di un avvocato, di un medico, ma di Dio non ci si fida. E allora è un dono che si accoglie, la fede è un dono che si accoglie nella libertà e nel rischio. L'uomo non è un oggetto, un burattino nelle mani di Dio, è libero. Poi l'uomo è l'immagine di Dio, non dimentichiamolo, è Dio, è libertà. Fermiamoci. Infine sulla domanda dialogo. In tutte queste domeniche abbiamo assistito a dei dialoghi. La Samaritana, il cieco nato, l'incredulo Tommaso. Ancora un dialogo domanda di Tommaso. Gesù aveva appena finito di dire, come abbiamo ribadito, non abbiate paura, abbiate fede in me, vado a prepararvi un posto. Poi aggiunge, attenzione bene, del luogo dove io vado voi conoscete la via. Tommaso dice quello che avremmo detto noi. Con la nostra logica umana. Signore, non sappiamo dove vai. Come puoi dirci, conoscete la via? Tommaso reagisce e ragiona umanamente in modo ineccepibile. È un po' come se una persona mi si avvicinasse per strada e mi dicesse, mi puoi indicare la via? E io gli direi, mi dica per dove? Dove vuole andare? Gesù dice, io sono la via. Noi gli diremmo per dove? Ma le cose nella vita della fede, del discepolo, non funzionano così, perché Gesù non si è sbagliato, ma sta invitando i discepoli ad una conversione, ossia, se vuoi arrivare alla tua meta, non chiederti dov'è, fidati di me. Devi affidarti a me. Devi riconoscere che io sono la strada, sono la via, inizia a percorrerla, ti troverai a destinazione, questa è la fede. Ecco perché forse pochi hanno la vera fede. Inoltre, nell'invito di Gesù ai discepoli, c'è una vera rivoluzione copernicana, ogni conversione è una rivoluzione copernicana, una rivoluzione copernicana che Gesù annuncia quando dice, io sono la via, la verità e la vita, che non va intesa come noi, perché noi ci impossessiamo del Vangelo, lo interpretiamo secondo quello che abbiamo dentro e gli facciamo dire quello che è dentro di noi. Ecco perché tante volte fatichiamo come persone discepoli e comunità a convertirci. Questa frase di Gesù, io sono la via, la verità e la vita, non va intesa come noi spontaneamente la intenderemmo. Io sono la via alla verità e alla vita, ma io sono la via perché sono la verità e la vita. Gesù è tutto. Ecco perché ho ringraziato del canto iniziale. Solo in te c'è fedeltà, c'è sicurezza. Gesù è tutto. È questo che noi discepoli, noi discepoli, tutti discepoli, fatichiamo a comprendere, ad accettare, a vivere. Un discepolo non è più del suo maestro e noi vogliamo insegnare a Gesù Cristo come si fa a essere Gesù Cristo. E allora la strada è breve, è segnata, è già finita. È quello che farà dire a Paolo, e concludo, perché è un testo importante, quello di Paolo, quando scrive ai Corinzi, parla del problema della vita, della felicità eterna. Il problema è che nessun uomo, nessun ospedale, nessun centro di ricerca risolverà mai. Il problema della morte. Paolo scrive ai Corinzi e dice come potete dire che tutti gli uomini non risorgono? Attenzione bene, se Gesù è risorto. Capite la rivoluzione. Il criterio non sono gli uomini che sono morti, ma è Gesù che è risorto. Non si può dubitare, dice Paolo ai Corinzi, che tutti risorgeremo. Perché? Perché lui è risorto. Ecco la rivoluzione. Ecco io sono la via. Ecco Gesù è tutto. Gesù è il vero inizio della fede cristiana. Lui che è allo stesso tempo il centro e il culmine. Ricordiamo la fine della lettera agli ebrei, il capitolo dodicesimo, dove l'autore della lettera agli ebrei, dopo aver dato tanti esempi di fede nella storia della salvezza, parla di Gesù e dice corriamo perseveranti tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Questa è l'interpretazione di quel versetto del Vangelo di oggi, Gesù che dice ai Suoi discepoli io sono la via, la verità e la vita. La via perché in Lui c'è già la verità e c'è già la vita. ebrei e corinzi ce lo ricordano, la Chiesa apostolica, la Chiesa che per prima ha vissuto nella storia la fede. Gesù è tutto e per questo può dire a Filippo, ed è la conclusione del Vangelo di oggi, mostraci il Padre. Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre. Ora consentitemi qualcosa che devo dire perché ognuno di noi c'è perché c'è una mamma. E oggi è la festa delle nostre mamme. Allora un augurio sincero alle nostre mamme. Oggi è la vostra festa, una festa che cos'è? Andiamo al senso genuino delle cose, è riconoscere che un avvenimento, un fatto, ma soprattutto una persona debbono essere riconosciuti da chi celebra la festa. Riconoscere, è più che conoscere, è conoscere l'importanza di qualcuno per noi nella nostra vita. Ognuno di noi, dicevo, ha una mamma. Quanto di ciascuno di noi di nostro e di nostra madre? La biologia, l'educazione, lo stile. Vedendo certi bambini piccoli alla scuola dell'infanzia rimango stupito dal tratto che hanno. Poi conosco la mamma o il papà e dico, capisco tutto. Ecco quella delicatezza, quel sorriso, quel grazie, quell'educazione. Ma se noi siamo soprattutto i plasmati, formati nell'amore e dall'amore, purtroppo è anche vera l'affermazione inversa. noi siamo il frutto dell'amore di nostra madre, di chi ci ha amati per primi, di chi ci ha amati più degli altri, di chi ci ha amati quando non eravamo ancora nel mondo ma eravamo nel suo grembo, creature vive, autonome e ci ha accolto, ci ha nutrito già nel grembo, educati da lei, incoraggiati da lei, perdonati da lei. Solo chi è stato perdonato sa perdonare. Quando una persona non perdona vuol dire che non è stata perdonata. Il cristianesimo inizia col battesimo che è il perdono. Signore, grazie del dono della mamma, grazie del dono della maternità, ti chiedo una cosa, fa che ogni donna sia sempre più conscia e grata a Dio di essere mamma e di aver avuto il dono della maternità. A tutte le nostre mamme un grazie, un abbraccio, una carezza.